Scuole chiuse fine a fine gennaio e prezzi calmerati per i tamponi ai bambini. E' quanto chiede l'Associazione Il Popolo di Chieti, che propone al Sindaco di chiudere anche le scuole per altri dieci giorni, considerato il picco massimo del contagio. Noi con l'Associazione La Gentile d'Abruzzo, che io ho l'onore di presiedere, da mesi ci stiamo occupando del problema della sicurezza sulle scuole. Prendiamo atto che finalmente, anche se per parlare di Covid, Sua Eccellenza il Prefetto ha dato vita a questo tavolo, che vede uniti come protagonisti il Sindaco di Chieti, i presidi, la ASL e la Prefettura. E ovviamente la prima cosa che noi chiediamo è che questa iniziativa venga stabilizzata, cioè che questo tavolo non nasca e muoia per parlare di questi due giorni di stasi, ma che rimanga come tavolo tecnico permanente, perché dopo il Covid si dovranno necessariamente affrontare le altre problematiche che noi abbiamo sollevato, ahimè senza risposta, che sono quelle per esempio dei piani di sicurezza delle scuole a 360 gradi. Ancora, noi abbiamo preso atto di questa decisione da parte del Sindaco di Chieti, che ringraziamo per la sua sensibilità caldeggiata dalla Sua Eccellenza il Prefetto, di chiudere le scuole per questo fine settimana. Però in realtà a noi appare una decisione un po' timida rispetto a quella che è l'emergenza pandemica in questo momento. In tutta Italia siamo al plateau, siamo al picco dei contagi. Le scuole, ahimè, sappiamo che sono un fortissimo veicolo di contagi. Sappiamo tutti, perché oramai è un dogma acclarato, che i tamponi antigenici, quindi lo screening rapido, è soltanto parzialmente attendibile, Crisanti lo ha definito una roulette russa, mentre invece quello molecolare sappiamo che è quello più sicuro. Però il molecolare è improponibile soprattutto per i bimbi, per gli alti costi. Sappiamo che i laboratori di Chieti sono ingolfati e allora noi torniamo a chiedere un periodo maggiore di stasi e vorremmo che Sua Eccellenza il Prefetto, come rappresentante territoriale del governo, dia questo input, cioè quello di mantenere le scuole chiuse almeno sino a fine gennaio, per consentire ai presidi di riorganizzarsi ancora meglio, ai due laboratori di decongestionarsi al meglio e soprattutto per consentire a molti bimbi, purtroppo positivi, di negativizzarsi e di tornare a scuola in sicurezza.